Io lo dico nel libro, io dico quello che ho vissuto, che poi dopo non sono uno storico, non parlo da storico, parlo da quello che ho vissuto e quello che mi ha... Questa foto è stata fatta più o meno due anni dopo che le hanno fuggire, è stata fatta dopo la liberazione, quindi io avevo quattro mesi, qua c'avevo due anni, perché di quella dei sette fratelli c'eri, ma della famiglia del dopo non ne parla quasi nessuno, insomma. Poi dopo, sai, se si monta su magari qualcuno ti dice, ah perché non è vero, perché qua, perché là, io non l'ho visto, ero piccolo, mi ricordo che da piccolo andavo nei campi e nessuno mi veniva a dire se ero sporco, pulito, se mi ero affaticato molto, venivano a cercare mio nonno, a cercare Niernes, a cercare qualcuno perché gli serviva i cervi per fare qualcosa. Non sai i sacrifici che hanno fatto le donne, quando io gli dico che figlio dell'eroe, poi dopo, ha finito gli elementari, sono dovuto andare nei campi a lavorare, e già detto tutto, spero e volentieri nessuno non mi ha mai fatto tante domande se era dura essere il figlio del mito.